Buongiorno! Sono al computer perché sto lavorando, sto facendo delle cose. Mi sto leggendo un email che mi hanno mandato da Publiacqua perché ieri ho fatto il cambio dell'utenza per casa nuova. Ci siamo quasi, andiamo a vivere a casina. Do mattina, scusate per il faccio di luce, mi viene il tecnico appunto per sistemarmi l'ADSL e oggi pomeriggio vado a stare un appuntamento per far venire il tecnico di Sky così ci mettano anche quello e insomma siamo a posto almeno così. Poi ci dovevo dire questa cosa anche praticamente come sapete c'era arrivato il letto però ci hanno sbagliato il materasso quindi domattina vengono a prendere il materasso e poi ci risistemano quello lì e ce lo riportano. Praticamente ce l'hanno fatto più piccolo di 10 centimetri. ovviamente noi ci sarà chiesto di fare un 80 x 2,10 e invece ce l'hanno fatto un 80 x 2 metri quindi è troppo piccolo. Quindi domani c'è domattina me lo vengono a prendere poi sperando che lunedì o martedì ce lo riportino comunque adesso vediamo un po'. Nulla. Domani mi viene il tecnico. Punturo. Ho detto. Comunque se volete anche sapere qualcosa più su di me non esistate a chiedere nel senso volete magari sapere da quanto sono anche la mia relazione con il mio ragazzo. Se volete sapere come ci siamo conosciuti tutta la insomma tutta la storia fatemelo sapere che vi faccio un video apposta dove vi parlo appunto della mia relazione con lui così almeno ci mi... come si diceva io mi sfugge la parola mi incominciate a conoscere almeno comunque adesso aspetta arrivano i miei suoceri così mangiamo e io poi vado appunto sì ma più tardi perché tanto comunque comunque l'ho quasi fatto più tardi perché poi sì devo andare a sentire per sky e basta poi comunque poi domattina dalle 10 e mezzo a mezzogiorno e mezzo appunto mi arriva il tecnico e dalle 10 a mezzogiorno mi arrivano per prendere il letto speriamo che riesco a farvi il prima possibile l'home tour appena ci vado a stare perché... però questo fine settimana no perché i miei suoceri vanno via tornano lunedì sera quindi non ci sono non so quando riuscirò a farvi l'home tour spero... comunque vi ho detto spero il prima possibile adesso vediamo un attimo e niente ovviamente poi sono stata in banca siamo state in banca ieri cioè finalmente abbiamo aperto il conto corrente finalmente ce l'abbiamo fatta e scusate per la mia voce ma ho un po' di mal di gola e abbassamento di voce anche anche tutto dipende da dall'aria condizionata a lavoro dunque a volte mi fa male la gola vi volevo far vedere che cosa mi ha comprato mia mamma ieri da Primark sono due cosine non è che sono chissà che cosa eh allora intanto mi ha preso questo sacchetto e comunque ve lo davano un euro e cinquanta in più e c'era questo o se no un altro nero comunque ho scelto questo allora mi ha preso questo vestito vestitino fatto con tutti i disegni molto carino con le maniche che rimangono un po' così praticamente un po' per tutti i giorni ma è bellino da morire questo vestito poi ne ho preso anche questa maglietta aspettate che tolgo il vestito ok poi mi ha preso questa maglietta ah il vestito praticamente l'oppa me l'ha pagato solo 20 euro fatto il cartellino questa maglietta giallo molto floreale anche questa 11 euro molto carina e dietro rimane normale elastica la particolarità di questa maglietta è che sulle maniche rimane con i laccettini poi comunque poi ve la farò vedere indossata nel prossimo vlog casomai almeno si avvisce meglio poi mi ha preso questo pigiama ancora non ho neanche tolto praticamente è una canottiera blu e sotto ci sono i pantaloncini fatti con tutta questa fantasia qua e hanno la nappina qua sopra e questi si sono pagati solo 8 euro poi ne ho preso questi pantaloncini per andare anche tipo sulla spiaggia un po' così grigi con le righe rose e i filini rosa e questi questi li ha pagati praticamente la bellezza di 5 euro usate per il casino poi mi ha preso queste ciabatte c'erano anche rosa c'erano di tutti i colori infatti poi le andrò a prendere e queste le abbiamo le ha pagate un euro cioè e poi ho preso anche questa agenda è un momento da scriverci tutti le password magari i codici della wifi appunto della DSL di casa e cose varie mentre il dentro è arrivi poi a un certo punto c'è questo tipo questi inserti tipo così ah you are on in Hamelon scusatemi inglese ma non hai dei migliori molto carina comunque in questa fantasia tutta con le angoli è molto carina questo ovviamente era lo shopping di ieri comunque poi mi metterò a scrivere anche sull'agenda tutte le cose appunto appena non ci andremo a stare scriverò su tutte le cose sull'agenda tanto per ora è inutile perché comunque ancora non abbiamo la DSL amore nel frattempo c'è il cane mio ragazzo che mi sta guardando amore che c'è bello sei comunque mi sembra un po' inutile comunque anche scrivere già le cose perché comunque non abbiamo né il codice della wifi né sky né nulla ancora quindi tanto non ci stiamo ancora andando quindi aspettiamo nel frattempo devo portare anche queste due scatole qua non questa roba ancora no questa su però le scatole queste qui si le devo portare su guarda volevo provare a portarle oggi ma mi sa che non ce la faccio ah nel frattempo questa che lo posso mandare ovviamente ho fatto una collaborazione con un ragazzo poi comunque vedrete la collaborazione con questo ragazzo anche sul mio secondo canale per ora lo vedrete solo sul suo comunque adesso gli mando e la mando e poi vediamo un po' ok allora nel frattempo poi mi leggo anche l'email che mi è arrivata ok ho letto anche il mail praticamente mi dicevano della documentazione della proposta scusate della proposta per cambio di utenze come fare mandarlo per email o cose varie scusate per questo fascio ma forse meglio così comunque adesso andiamo un po' non so se andare a portare giù queste quelle scatole vi ho fatto vedere prima e poi portarle su nel pomeriggio oppure non lo so non ne ho completamente idea poi adesso vediamo un po' ma penso che non le porterò ancora su anche perché se devo andare a Pescai non ce la faccio perché poi entra le sette no non ce la faccio perché poi una mia collega mi ha chiesto di arrivare prima perché sicuramente mi dovrà raccontare alcune cose di quelle che sono successe perché lei è stata in ferie è tornata da poco quindi mi dovrà raccontare sicuramente quello che gli è successo in ferie comunque adesso ahia mi si ha tirata la borsa addosso vabbè comunque ho un po' di casino nell'armadio tanto poi sono tutte cose e devo portare il su comunque come vi ho già detto anche nello scorso vlog se volete vedere qualche sapere qualche cosa su di me ve l'ho detto anche in questo poco fa se volete sapere qualcosa di me mi raccomando scrivetemelo sotto con un commento sotto anche questo video sotto l'ultima foto di instagram dove volete anche per messaggio privato su facebook o in direct su instagram seguitemi anche sui social mi raccomando ci conto tantissimo quindi io vi mando un grosso bacione tanto domani vloggo anche domani comunque per far vedere poi per la DSL e niente io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao